La cronaca adesso con una maxirissa che si è verificata di riserva al progetto Case dell'Aquila. Tutto sarebbe nato per una foto postata su un social che avrebbe fatto scattare una spedizione punitiva. Due gruppi rivali si sarebbero confrontati per un chiarimento. L'episodio si è consumato al progetto Case di Coppito, piccola frazione alle porte dell'Aquila. Lo scontro poi è avvenuto con spranghe di ferro e bottiglie, naturalmente fra i due gruppi. I cittadini allarmati hanno chiamato la polizia sul posto, le forze di polizia sul posto. Sono subito intervenuti i carabinieri che hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Sono state fermate nove persone tra italiani e stranieri. Dopo essere stati identificati sono state poste agli arresti domiciliari.